benvenuti amici miei ed amici è tornato prima vi ricordo di iscrivervi al canale attivate la campanella e iscrivetevi nei commenti scusate ma oggi non c'ho la voce infatti parlerò basso basso e oggi vi vorrei condividere un altro mio quadro che si chiama eleganza delle stelle ora arrivo ecco eccolo il quadro eleganza delle stelle primo soggetto troviamo le stelle sono cinque più la luna e poi i colori sono tre sono azzurro bianco e blu scuro dopo la giornata molto staccante sembrava che noi guardiamo verso il cielo mi sono nato e vediamo queste stelle che sono molto eleganti e facili secondo qualche cosa vi pensate adesso vi faccio ascoltare la mostra proprio si chiama eleganza delle stelle di ultimo tra l'eleganza delle stelle che poi se non ci fossero dovrei inventarle delle barche che volano su nuvole bianche saresti la risorsa per ogni sorriso sarebbe la tua vita il tuo film preferito e poi se mi credessi ti porterai in salvo dallo smog dagli spari di un mondo violento non posso darti più quello che chiedi ti dedico un sogno ma tu non lo vedi l'amore non esiste ma è quello in cui credi e quando ti senti sola riempi la mente alza gli occhi nel cielo rinchiuditi sempre tra l'eleganza delle stelle l'eleganza delle stelle ok ragazzi è finita la musica e voi che cosa ne pensate vi piace questo quadro e scrivetemi nei commenti quello che secondo voi che cosa rappresenta questo quadro e ora vi saluto e al prossimo video da Dami G Channel